Di solito nei film di Natale si differenziano un po' l'uno dall'altro perché ogni anno si cerca un argomento di moda, up to date, quindi si è sembrato che i cuochi fossero una cosa che in questo momento vanno per la maggiore, ci sono un sacco di trasmissioni e quindi abbiamo fatto un film sui cuochi che però cucinano male ovviamente. Io sono molto affezionato, sono un bravo cuoco, non ci siamo documentati perché noi dovevamo inventarci dei piatti talmente schifosi che non avremmo potuto documentarci, per cui facciamo gli spaghetti con la visciola, con il miele, con la spremuta di cozze, con la melassa, quindi ci siamo dovuti inventare dei piatti immangiabili. Cosa si intende per cine panettone? Io l'ho sempre visto come un fatto di tradizione natalizia perché questi film escono sempre a Natale e come fatto che all'interno ci sono tanti ingredienti, cosa che di solito ci sono anche nei miei film.